Joliet, 8 e 24 minuti pronto anche a fare la back voice di Joliet ragazzi, ve lo dico, ah Elisa se ci va male parlo con Elisa, la mia producer, se ci va male andiamo a fare i cori per Joliet non so se ci va bene o se ci va male in realtà comunque, allora andiamo avanti, ci ha raggiunto qui con noi una graditissima ospite, sto parlando di Veronica M. Degan, so che c'è anche una M un po' come gli artisti che hanno il nome anche Homer Simpson Homer J. Simpson quindi, insomma, chissà lasciamo il mistero su questa M. Veronica Degan di CSV Milano, buongiorno Veronica ciao, buongiorno a tutti, è sempre bello tornare sempre bello averti qui perché dobbiamo dare un po' di appuntamenti dobbiamo dare un po' di numeri dobbiamo dare un po' di appuntamenti perché questo weekend è un weekend importante per un progetto di cui appunto CSV è capofila e sta portando in giro la creatività nella città di Milano ma raccontaci un po' di cosa stiamo parlando il progetto è Cree Action sì, il progetto è Cree Action ma che è parte di un programma internazionale Barber Inspire ormai in atto da più di un anno in diversi paesi del mondo se non sbaglio più di sei e coinvolge quindi tutte le organizzazioni internazionali che lavorano insieme ai ragazzi tra i 12 e i 25 anni una bella fetta di popolazione a Milano i ragazzi da 12-25 anni ce ne sono e hanno tanto da fare adesso grazie anche a Cree Action che cosa avete fatto e cosa succederà appunto questo weekend? diciamo il nostro obiettivo è quello di riuscire il più possibile a tirare fuori i geni creativi che sono nescosti un po' nelle periferie di Milano e principalmente ci concentriamo al momento si spera in più posti possibili nel futuro a Grattosoglio Barona poi questa zona San Siro e Municipio 9 quindi Bruzzano-Affori ok e avete fatto sviluppare diciamo la creatività questi ragazzi ci sono tante discipline adesso facci solo un elenco di discipline poi spieghiamo bene che cosa succederà un po' nel weekend dopo la pausa perché vi lasciamo un po' di suspense ma ci sono delle discipline di cui non sappiamo neanche l'esistenza ci sono quelle più classiche o sono state ad esempio? per esempio la street art ok beh quella ormai la sappiamo tutti e il rap diciamo quelle più pop poi c'è la break dance che comunque è conosciuta però un pochino più di nicchia e poi per ultima per gli ultimi due diciamo quelli più sconosciuti sono poetry slam poetry slam già qui incominciamo a essere solo difficile e lo sturdi ecco e qui io fermerei tutto fermate anche la base fermate tutto lo sturdi che non è quando sei uno sturdi non è quella roba lì è un ballo che va tantissimo tra parentesi sì ormai diciamo fascia d'età tra gli undici ma anche più piccolini fino ai 15 17 anni conosciutissimo su tiktok quindi diciamo devi essere della generazione z per conoscerlo la sub z cioè più piccolo della z tra parentesi bellissimo perché poi ho visto dei video che avete prodotto sui vostri canali social e è un ballo che diciamo un ballo di gambe non so non saprei come spiegarlo sì sì una break dance però non ti butti a terra esatto esatto più o meno è quello è quello la cosa interessante è che ad esempio questi molti di queste discipline sono state anche poi insegnate ai ragazzi che si sono avvicinati al vostro progetto a volte anche da ragazzi quasi coetanei noi parliamo subito dopo la prossima canzone che dicono essere copiata dai maneschi quello che volete ma in realtà è bellissima è Farley Williams insieme a Miley Cyrus con Doctor Work It Out Angelina Mango la noia total invece non ci sia noia quando si va a parlare di creation o soprattutto quando si viene ai vostri eventi venerdì e domenica sono due eventi allora partiamo da venerdì dove siete cosa fate e perché bisogna venire soprattutto se siete appassionati di quelle discipline c'è ancora tempo per iscriversi fino all'ultimo allora domani pomeriggio siamo dalle 16 allo skate park in zona Bicocca ok e per le discipline di Sturdi poetry slam rap e disegno e le iscrizioni sono aperte a tutti anche se qualcuno vuole presentarsi lì al momento ovviamente non non lo escludiamo non lo cacciate no sicuramente quindi partiamo alle 16 con il disegno durerà circa due ore il tempo di appunto realizzare le opere come funzionerà come funziona il disegno cosa faranno cosa e il disegno mettiamo a disposizione noi tutti i materiali quindi diciamo stendiamo questa tela gigante tutto lungo lo skate park in modo tale da dare il più spazio possibile agli artisti e mettiamo a disposizione le tempere per diciamo lasciare appunto liberi di prendere ispirazione anche da dallo spazio circostante ok perfetto poi le altre discipline dicevi sono poi iniziamo con rap ok e poetry slam e lo sturdy quindi poi ci saranno appunto le esibizioni che si alterneranno un po' tutto il pomeriggio e andremo avanti sicuramente fino alle 22 per concludere con la premiazione ok mi sa anche un open mic dicevi di poetry slam esatto sì poi alla fine ovviamente se rimane tempo e se c'è ancora la voglia di continuare con le performance mettiamo a disposizione il nostro microfono la nostra console e chiunque volesse venire appunto ad esibirsi è liberissimo jam session alla fine jam session alla fine questo viene appunto venerdì venerdì dalle 16 allo skate park della Bicocca trappantese di skate park che molti di voi non sanno cos'è e dov'è andate a farci un giro perché è veramente interessante come luogo è sempre molto ben popolato anche invece poi si replica domenica da un'altra parte invece con un altro tipo di spettacolo diciamo o meglio momento di creatività sì invece creatività esatto domenica invece siamo a Grattosoglio nello spazio superone 85 e quindi siamo ospite di questo spazio meraviglioso ha detto giusto no so già che ha detto come la barona non è in Grattosoglio no Baroni 85 con la I no con la A a barona sta di là barona padrona è dall'altra parte baroni 85 è una via con un numero civico anche voi però non fate quelli difficili ed è a Grattosoglio c'è un centro molto interessante che appunto sembra che quello super popolato durante tutta la settimana con tantissime attività ha un'agenda fittissima in questa agenda siete riusciti a infilare questa domenica appunto questo creation day diciamo dove appunto fatemi qui cosa dimmi un po' invece quel giorno lì cominciamo presto comunque la mattina dalle undici e mezza mezzogiorno diciamo apriamo le porte e si parte con dei workshop aperti a tutti di rap breakdance e street art quindi chiunque volesse partecipare ma non al contest comunque è liberissimo di venire ma anche solo per sentire ascoltare gli artisti comunque vedere che disegnano e poi invece il contest vero e proprio comincia dalle quindici e trenta sedici e quindi contemporaneamente vedremo tutte le performance di chi si è iscritto e chiediamo che alcuni di questi artisti appunto che si esibiranno arrivano poi dal percorso di CREACTION giusto come ha funzionato questo percorso sì noi siamo partiti da fine ottobre con dei workshop aperti a tutti e gratuiti grazie a diciamo gli artisti e i tutor super disponibili e comunque anche bravissimi che hanno fatto la differenza davvero per questo percorso per i ragazzi e quindi ci sono stati questi workshop durante tutti questi mesi in cui hanno sviluppato comunque portato avanti la propria passione e quindi prodotto appunto le proprie opere che presenteranno questo contest bene allora adesso ci fermiamo ancora con un po' di musica ma poi torniamo ancora qui Veronica che ci racconti bene anche quale sarà il futuro del progetto CREACTION che adesso diciamo è solo a metà del percorso quindi andrà avanti e andrà avanti anzi ancora per qualche anno poi e quindi andiamo avanti con Big Mama e con La Rabbia Non Ti Basta Big Mama La Rabbia Non Ti Basta e invece se non vi basta la creatività se l'avete dentro di voi o la volete fare esplodere CREACTION è il progetto per voi abbiamo detto appunto in questo weekend venerdì alle 16 in Bicocca l'evento appunto di CREACTION poi domenica un altro evento sempre targato CREACTION a Baroni 85 in quella di Grattosoglio tante discipline potete ancora iscrivervi seguiteli sui social che ci sono tutte le indicazioni per iscrivervi ma poi non finisce qui cioè non è che vabbè bravi avete vinto è finito no si va avanti no si va avanti infatti i vincitori di questi contest saranno diciamo un po' i protagonisti di quello che sarà il programma radio che diciamo sarà targato appunto CREACTION in cui vogliamo veramente raccontare non solo le storie di questi ragazzi che grazie alla propria passione al proprio talento riescono un po' a trovare un po' la loro voce ecco però anche soprattutto raccontare quanto è importante sviluppare questo lato creativo che c'è in ognuno di noi che è importante non solo per la propria diciamo vita personale e lo sviluppo crescita per diventare diciamo adulti ma soprattutto anche con le relazioni con gli altri quindi trovare il proprio posto all'interno del proprio quartiere della propria comunità e anche mettere a disposizione le proprie competenze e idee creative per rendere proprio anche magari il proprio quartiere un posto migliore per tutti quindi Creaction diventerà anche una trasmissione radiofonica un podcast appunto che poi potrà raccontare e far divulgare ancora meglio quello che è stato questo processo questo percorso e soprattutto questi nuovi giovani artisti che arrivano proprio da un po' da tutte le parti più disparate della città dicevi anche sì sì non anche da Rozzano o comunque anche fuori Milano e che seguono un po' anche gli artisti e i tutor che fanno parte del nostro progetto perché è importantissimo appunto anche il ruolo del tutor che riesce a proprio creare anche un rapporto di fiducia con questi ragazzi e riesce a seguirli proprio dall'inizio alla fine per aiutarli ecco in questa crescita questi tutor sono gente che alcuni sono una vita che vivono in questo ambiente altri invece sono anche giovanissimi perché ad esempio in Sturdi so che c'è questo ragazzo come si chiama Iamme che è super giovane proprio sì sì ha appena 20-21 anni e diciamo lui ha iniziato grazie a TikTok proprio in piazza in Gaolenti con anche i ragazzi che si avvicinavano lì al momento per ballare insieme e quindi pian piano si è creato la sua community non solo online ma anche fisica sì sì non me ne vogliono altri tutor tipo LPO stavo pensando non stavo dicendo che sei vecchio LPO hai più anni di esperienza nel campo e anche lì tanti risultati ottimi hanno prodotto le canzoni sì 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 lì anche del rap che si vedono ogni lunedì sera al Barrios hanno creato veramente un gruppo innanzitutto affiatato proprio come amicizia prima di di questi di questo laboratorio non si conoscevano e adesso sono diventati propri amici ma poi anche professionalmente diciamo lato creativo perché stanno sviluppando anche dei brani insieme e quindi anche aiutandosi l'un l'altro insomma e sappiamo benissimo che a Milano tutte le grandi storie nascono così perché se abbiamo un gali e perché abbiamo tutto un gruppo che c'era dietro a lui Charlie Charles e tutta la la combriccola che girava intorno a loro se abbiamo anche degli abbiamo avuto qui Deborah Villa qualche settimana fa che faceva che fa la comica la famosa patti di camera a caffè tutto nasce dallo scaldasole che è stato un laboratorio di comicità pazzesco a Milano di gente che non si conosceva diventati amici alcuni si sono pure sposati tra i loro vedi Pozzoli Pozzoli Femm quindi c'è vedete voi e proprio così insomma speriamo che anche Creaction sia una focina di grandi e nuove artisti che possono rinvigorire gli artisti milanesi diamo un po' le coordinate invece per seguirvi come fare dove fare ricordiamo poi in chiusura gli appuntamenti sì noi siamo sia su Instagram che su Facebook con il nome Creaction Milano pubblichiamo giornalmente tutte le attività che svolgiamo ogni giorno e poi ricordiamo appunto i prossimi appuntamenti quindi gli eventi di venerdì e domenica e poi anche man mano anche tutte le puntate radio che saranno trasmesse in diretta poi anche con l'educativa di strada ah con l'educativa di strada quindi insomma c'è tanti progetti davvero interessanti dietro con gli amici di Shell Radio che appunto faranno seguire la parte radiofonica quindi insomma è sempre bello poi lo sapete ve lo dico sempre quando passiamo in radio parliamo di altre radio io sono solo contento nel senso che appunto siamo tutti una grande famiglia e questo strumento lo amiamo tutti quindi non è un problema poi posto di verità adesso poi potete ascoltare me quegli altri tutti intanto avete tutti gli strumenti per ascoltarci tutti quanti quando volete quindi non c'è più neanche se a dire no ma se potete meno ascoltare gli altri quindi ci mancherebbe Veronica io ti ringrazio tantissimo ti auguro il massimo per questi importanti appuntamenti grazie del weekend e poi vediamo un attimino di ritrovarvi qui quando magari appunto avremo questi grandi artisti perché c'erano anche dei vincitori giusto poi in questi contest esatto come saranno scelti questi vincitori? ci sono dei giudici ospiti e quindi poi i vincitori riceveranno dei premi oltre che appunto dopo l'esperienza di essere un po' i protagonisti di questo programma radio ma riceveranno anche lì al momento dei premi che saranno degli strumenti utili per sviluppare sempre la loro creatività vincono degli strumenti legati alla loro attività dicono un cantante vince il microfono il pittore vince il pennello non credo sia così però più o meno più o meno così va bene Veronica M. Degan del CSV di Milano grazie mille scoprite questa M che cosa mai sarà chissà noi non ve lo diciamo è il nuovo facciamo social facciamo una stories su Instagram su scopri la M di Veronica che cosa vuol dire va bene infatti va bene grazie mille Veronica porta tutti i saluti anche a tutta la grande squadra del CSV grazie che sappiamo essere in questi giorni molto al lavoro anche perché signori arriva la Civil Week poi ne parliamo anche di quello ne parliamo anche di quello ne parleremo più avanti grazie mille ancora Veronica grazie a voi andiamo quindi con la musica stiamo parlando di Dagen D'Amico con Onda Alta qui alle 8.49 minuti su Cristal Radio Good Morning Milano 331-78-53555 a fra poco con la grande nostra chiusura come tutti i giorni qua in diretta grazie a tutti i giorni